Continua l'impegno dell'Associazione Onde Donne in Movimento, che opera da sempre in difesa dei diritti delle donne in ogni parte del mondo, proprio l'associazione che lo scorso marzo organizzò una mostra sull'artista afghana Samzia Hassani e che ad ottobre ha anche organizzato e coordinato il sit-in Donna Vita Libertà a sostegno della lotta delle donne iraniane. Torna adesso con una nuova iniziativa per sensibilizzare la cittadinanza nissena. L'Associazione Onde Donne in Movimento ha aderito al Comitato Internazionale per la Difesa delle Donne Afghane firmando il comunicato. L'abbiamo fatto in un'ottica di solidarietà internazionale con le altre donne. L'abbiamo fatto convintamente, come convintamente abbiamo manifestato per i diritti delle donne iraniane. Non potrà esserci pace in ogni angolo del mondo se non verranno rispettati i diritti fondamentali delle donne e delle ragazze, la loro istruzione, la loro crescita professionale, la loro libertà. È necessario che tutti i governi occidentali pongano i diritti delle donne al centro della loro politica estera. Solo così potremo fare dei passi avanti verso l'eliminazione di queste odiose discriminazioni che oggi sono diventate violenza pura. Una sottoscrizione quindi a sostegno del Movimento Spontaneo delle Donne Afghane e del Comitato Internazionale che le supporta.